Caloroso buongiorno agli amici di Casa Chalet, benvenuti allo Chalet del Centro. Siamo qui per presentarvi un drink da me molto preferito, il Martinez. Iniziamo a raffreddare il nostro mixing glass con del ghiaccio. Raffreddiamo il nostro mixing glass e passiamo a portare via l'essenza. Dunque, la nostra ricetta comprende sempre il vermut da me preferito, sono 3 cl di vermut rosso, il gin, un altro distillato da me preferito, in questo caso un Old Tom. 3 cl di gin e poi altri due ingredienti fondamentali per questo drink. Il maraschino. Poi andiamo a versare un bar spum. 2 gocce di orange bitter. Aggiungiamo il ghiaccio. Aggiungiamo il ghiaccio al nostro drink. E iniziamo a mescolare. e pinto ai un salto da prezzo ed il amico con il pomso. E spiazzi un ghiaccio. Aggiungiamo il ghiaccio del ghiaccio. Iniziamo a metà... Aggiungiamo il ghiaccio. Increre un ghiaccio amor. Un ghiaccio. Aggiungiamo il ghiaccio. Allora, e questo è il nostro Martinez.